è finito il match tra Juve Stabia Under 17 e Monopoli 0-0 il risultato siamo in compagnia di Vincenzo Bozzautre ciao Vincenzo ciao Ciro Vincenzo peccato perché ci avete provato fino alla fine era un risultato questo importante alla luce anche di quanto è successo sul campo della San Benedettese la Paganese ha vinto per 1-0 poteva esserci la matematica qualificazione pleo a prescindere il risultato della Paganese per una partita dobbiamo portare a casa e dobbiamo vincere l'ho detto a prescindere perché comunque siamo una formazione che ha molte qualità oggi forse non abbiamo messo in mostra del tutto però ci faremo ai playoff perché andremo sicuramente playoff e dimostreremo chi siamo ecco prossimo match con la Fidelis Andrea lì bisogna andare per chiudere i giochi lì andiamo ovviamente per vincere poi sicuramente anche lì sarà una partita dura perché loro comunque vogliono portare il risultato a casa ma contro di noi non è facile e quindi dovranno giocare molto bene per portare il risultato a casa grazie Vincenzo ti lasciamo la doccia grazie Ciro buona giornata grandi giochi per piccoli giocatori dove da fantasie di Antonio Procida dove assortimento e qualità non hanno uguali bambini prima di scegliere venite da fantasie la casa dei balocchi più bella che ci sia tutto quello che desiderate ma proprio tutto e altro ancora fantasie giocattoli lo trovate in via davernola 152 a castellamare di stabia hai voglia di pizza fritti e rosticini o di primi secondi e dolci gustosi di un drink o di un cocktail questo è il posto che fa per te l'incrocio sa prenderti per la gola la tradizione di un'antica ricetta gli ingredienti naturali e tanto amore il giovedì venite a provare il nostro nuovo arrivato il buttaziello ondufato chiedetelo provatelo e poi ci direte typical Italian food l'incrocio lo puoi trovare a torre annunziata in via vittorio veneto 360 per prenotazioni chiamalo 0 8 1 8 6 2 2 8 3 6 fly line sport veste lo sport il tempo libero da noi puoi trovare tutto quello che ti serve le marche più prestigiose novità di grido tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri adidas nike kappa puma macron e tanti altri il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti lo sport è passione la passione lo sport e non lo sappiamo bene vieni a trovarci in via europa 51 g a castellammar di sabbia napoli il loro spazio il loro mondo ecco il segreto di una famiglia felice le camerette fattore di felicità familiare le camerette arredamento specializzato per ragazzi a scafati www.lecamerette.it una pizza deliziosa rosticceria di prima qualità gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato non puoi non provare le nostre specialità non puoi non venire da noi melis pizza lo trovi in via europa 82 a castellammare di staglio